Sono accusati di essere gli autori dei furti avvenuti a Comiso e a Santa Croce Camerina a partire dallo scorso ottobre fino a gennaio scorso ai danni dei proprietari di otto auto, due frugoni, un motociclo di grossa cilindrata e tre moto ed ancora di 30 colli di rete metallica. Gli obiettivi principali erano auto di piccola e media dimensione e motocicli e frugoni di lavoro. In più occasioni si aggiravano per le strade di Santa Croce Camerina e di Comiso ma non disdegnavano Ragusa e Acate perpetrando i furti in ore notturne travisati con cappucci di felpe e berretti. Adesso sono in carcere, sono tutti gelesi, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Ragusa e del reparto territoriale di Gela e dagli agenti della polizia di Comiso e del locale commissariato. Le manette sono scattate ai polsi di Gianluca Scollo, 31 anni, Salvatore Nicola Michael Marretta, 26, Francesco Caci, 27 e Vincenzo Cassisi, 30 anni. Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, Monica Monego. Le ordinanze sono state emesse dal GIP Claudio Maggioni. I malviventi, secondo quanto ricostruito dalle investigazioni, aprivano i veicoli per poi spostarli spingendoli a mano lontano dalle abitazioni in modo da non provocare rumori che destassero sospetto e una volta all'assicuro li mettevano in moto per portarli via senza perdere tempo. Se il mezzo dava qualche problema nel momento dell'avviamento, i ladri non perdevano tempo prezioso e lo lasciavano abbandonato, come è successo ad una Fiat 500 rubata a Comiso e trovata abbandonata sulla strada che conduce a Chiara Montegulfi o un furgone Turbo Daily Iveco rinvenuto a Santa Croce Camerina a breve distanza dal luogo del furto. Un motociclo invece è stato addirittura trainato dall'autovettura usata dai malviventi per arrivare a Santa Croce Camerina fino all'uscita della città, dove in un secondo momento è stato messo in moto e portato via. Dalle indagini è emerso anche che i ladri depositavano i mezzi rubati in un garage dove poi venivano smontati e venduti. Inoltre gli stessi hanno utilizzato lo stesso modus operandi per aprire il garage da dove sono stati portati via i motocicli da cross. Grazie all'acquisizione della ripresa delle videocamere a circuito chiuso di alcuni negozi è emerso non solo il numero delle persone che materialmente hanno operato i furti, ma soprattutto la loro abilità adottata per aprire e asportare veicoli e anche le vie di fuga utilizzate dagli stessi una volta commesso il furto. Tutte le azioni criminose, oltre ad avere recato un danno economico alle vittime, hanno destato preoccupazione tra gli abitanti della cittadina ragusana. Durante l'esecuzione delle misure cautelari gli agenti di polizia e carabinieri hanno effettuato anche cinque perquisizioni, quattro agli arrestati e una presso l'abitazione di un quinto uomo indagato per gli stessi reati ma non destinatario di ordinanza custodiale ed hanno sequestrato due auto modello Fiat 500, una Vespa Piaggio 125 sulle quali saranno effettuate certamente circa la provenienza ed ancora quattro centraline di vari modelli di autovetture notoriamente utilizzate per sostituire quelle originali delle macchine da rubare e un rilevatore di frequenze utilizzato per verificare la presenza di dispositivi di intercettazione.